Madonna mia ragazzi ma che cazzo di partita Turchia 3, Georgia 1 Una bellissima, una fantasmagorica partita A parte questa maglietta che sembra quella del pegnaroll Ma comunque bentornati in questo nuovissimo video Iscrivetevi al canale Cosa vi devo dire? Allora iscrivetevi perché ragazzi sto portando tutti i post partite Di tutte le partite di Euro 2024 E domani mi sa che facciamo anche uscire un altro video Iscrivetevi al secondo canale Calcio Puro 2 Dove là portiamo altri video Sempre di guardarti in moto del calcio Grazie, si chiama Calcio Puro 2 Comunque ragazzi Turchia 3, Georgia 1 Ma è stata una partita bellissima Bellissima e per ora mi viene a dire La partita più bella dell'europeo Perché è stata una partita stra 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 divertente Gol, Marchiattori, Muldur 25esimo Arda Gulere ne parliamo 65esimo Artur Koglu 97esimo E Mikautazze della Georgia al 32esimo Ma è stata ragazzi veramente una partita Fantastica Ma ragazzi veramente hanno giocato E' stata una partita bellissima Migliori in campo Veramente tanti ce ne sarebbero di migliori in campo C'è da dire che Mammar Tashvili ha salvato più di una volta Cioè tipo ha salvato ragazzi una punizione Che per quanto fosse centrale Ma aveva una potenza pazzesca Una punizione di Cialanoglu Ha salvato con una mano Cioè Madonna Non il segno comunista Quello anche no Però comunque Veramente una parata straordinaria di Mammar Tashvili E poi su un cross di Selic a cercare Mi pare Gli asici Non gli asici Un altro Comunque La presa di testa ha fatto un volo pazzesco E la presa comunque Ha fatto veramente un partitore anche Mammar Tashvili E poi c'è Mikhail Tazi Mikhail Tazi che ha fatto oltre al gol Primo nella storia della Georgia Nella storia degli europei per la Georgia Una Georgia che comunque ha fatto la sua sporchissima figura Una figura fantastica E probabilmente meritava il pari La Turchia poi alla fine ha guantato il 3-1 E forse Mammar Tashvili l'unico errore che ha fatto è stato salire Perché ci poteva stare Ovviamente avere un uomo in più in vantaggio Però in effetti devi pensare che se vuoi provare a passare la terza Devi cercare di prendere meno gol E prendersi questo rischio abnorme Che di fatto non ha pagato Non è stata la migliore delle cose Ma comunque ragazzi vogliamo parlare Arda Guler Più andiamo avanti E più veramente vedo che Arda Guler è un giocatore straordinario Questa Turchia è veramente in ottime mani Tra giocatori forti al momento Però forse sta arrivando veramente una Turchia Una new gen della Turchia Perché veramente straordinari Arda Guler Ma anche Ildiz che ha segnato anche un pallone messo in mezzo E per uno sputo nel fuorigioco Ma anche Kenan Ildiz oggi tra dribbling e tutto Veramente si è preso 3 milioni in più Di valore No 10 milioni in più Ragazzi Kenan dimostra di essere molto forte Adesso non torniamo a paragonare Perché qualcuno l'ha paragonata al primo di bala Con calma con i paragoni Con calma con i paragoni Ma comunque Kenan ha fatto anche lui la sua spurchissima figura E ha fatto veramente una straordinaria partita Mentre invece forse leggermente delurente in alcune occasioni Cvarazchelia Forse noto sempre di più in Cvarazchelia essere molto singolarista C'è da dire Molto persa a se stesso più che altro Però comunque straordinario E il gol lo trova un italiano Un ex italiano Ovvero Mert Muldur Ha tirato sta sassata sotto l'incrocio Che veramente pareva il gol di un po' di anni fa Di Pavard ai mondiali Con anche un palo che è stato preso da Iyan Sempre ex Sassuolo Al Sassuolo c'è la colonia dei turchi E' veramente grandissima partita ragazzi Grandissima partita La partita ve l'ho detto più bella dell'europeo Sempre molto in bilico E che sembra che possa sempre cambiare il risultato E scusate il gioco di parole Ma la Turchia comunque ha fatto vedere Essere una buona squadra Una buona difesa E la Georgia Se non avesse quei buchi in difesa Probabilmente sarebbe messo molto meglio Perché l'attacco c'è tra Mikautaze Che non so dove gioca Mikautaze scusate Non Mikautaze Gioca all'Ajax Teoricamente francese Mikautaze Però si sente dal cognome Sicuramente è nato in Francia Ma comunque E' sempre stato in Georgia Cioè probabilmente è nato in Francia C'è cresciuto in Francia Ma ha scelto la Georgia Perché sapeva Dio essere abbastanza bravo Per essere convocato alla Francia Comunque oltre a questo Ehm Veramente bravo E fanno vedere comunque I giocatori top player Che fanno totalmente la differenza Nella Nella Georgia Poi c'è stato un colpo di tacco Poi c'è stato un colpo di tacco ragazzi Mamma mia Pazzesco Ehm Quel colpo di tacco Che poi aveva portato a una buona azione Ehm Comunque questa 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 Turchia ha meritato la vittoria Per certi versi Per altri versi L'avrebbe meritata di più la Georgia C'è da vedere La Repubblica Ceca Stasera Che è l'unica Che manca ancora da vedere E vediamo Come andranno And Andranno? Sì Ehm Perché se la Repubblica Ceca Non convince molto Allora Si può dire che la Georgia Potrebbe aguantare una vittoria Fun fact La Turchia ha già segnato Tre volte Due volte No Più di due volte Cioè Più di due volte Due volte e mezzo I gol che ha fatto nello scorso europeo Perché aveva fatto Solo uno In un girone Dovevi passare Cioè Svizzera Galles Soltrae l'Italia Toglie l'Italia Ma comunque Contro il Galles Potevi tranquillamente passare Invece Persero pure contro il loro Un solo gol Arrivato contro la Svizzera Comunque La Turchia dimostra Di essere Veramente tanta roba Cioè Hanno vari giocatori Che comunque Creano una squadra Oltre a Cialanoglu Che è una bestia Oltre a Guler Ma ci sono giocatori Che magari I resti Non sono delle bestie Però comunque Ragazzi Soffor Cioè Muldur Chi l'avrebbe mai dato Mezzo centesimo A Yampure Mentre invece C'è un altro giocatore Un pochino passato in osservato Cioè la tre quarti La vedi là Il tre quartista puro E sulle fasce Il Diz E Ardagouler Ardagouler ha veramente tolto Un destro Un sinistro Scusate Sotto l'incrocio Fantastico Fantastico Comunque Ragazzi Sta per iniziare Il Portogallo Ti fanno ovviamente Portogallo Vi saluto Ci vediamo dopo Con Repubblica Ceca Portogallo Bella